... Dopo gli appena 33 passeggeri che hanno viaggiato nei voli inaugurali per Barcellona, nuovo flop ieri nel collegamento per El Prat, Tedde attacca ancora la giunta regionale, Dejana sul modello Puglia e categorico, inapplicabile in Sardegna. Ennesima rivoluzione a Sant'Anna, 37, i nuovi ordini di servizio in vigore dal 1 giugno, che si aggiungono alle mutate competenze dei dirigenti comunali, Salaris e Piras del nuovo centrodestra parlano di spostamento schizofrenico. Tony Faedda è il nuovo sindaco di Olmedo, ha ottenuto il 47% dei voti contro il 43% di Angela Simula. A Cagliari conferma per Sedda, a Olbia sarà ballottaggio. Un buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di CatalanTV, questi erano i titoli del nostro sommario, apriamo il telegiornale parlando di aeroporto per parlare purtroppo di un nuovo flop sulla tratta per Barcellona. Nel frattempo, dopo il caso della Puglia, che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'assessore ai trasporti di Iana dice esempio pugliese non applicabile in Sardegna. Ieri ad Alghero sono arrivati sette passeggeri senza bagaglio e ne sono partiti otto con un bagaglio da stiva, con un aeromobile A320 da 165 posti. Dopo il flop del volo inaugurale, il secondo collegamento per Barcellona non è da meno, anzi, è pure peggiore. Chi dobbiamo ringraziare per tutto questo? Cosa ha fatto di male il territorio per meritare una simile punizione? Si chiede in tono polemico il consigliere di Forza Italia, Marco Tedde, il primo a commentare i dati estremamente negativi di mercoledì e ieri appunto. Nel frattempo, la Puglia stringe accordi con Ryanair e fa il pieno di turisti, in calza l'ex sindaco algerese. Le direttive europee dell'aprile 2014, che consentono il sostegno allo costa, il decreto destinazione Italia e le direttive del Ministero nella stessa materia, attendono di essere applicate. A proposito dell'esempio pugliese, Deiana si è espresso con una nota ufficiale, nella quale sostiene come la soluzione adottata dall'Aggiunta Emiliano non sia applicabile nell'isola. Si tratta, dice, di un provvedimento finanziario per la copertura di un debito pregresso che ha suscitato e ancora suscita un dibattito fra diverse posizioni che deve essere approvato dal Consiglio regionale, che non può essere attualmente replicato in Sardegna, precisa il titolare dei trasporti. A differenza dell'isola, la Puglia non è soggetta ad alcuna procedura comunitaria e ha pertanto un margine di azione molto più ampio del nostro, ha ricordato Deiana. La Regione, ha aggiunto, è pronta a mettere in campo il suo intervento non appena si definiranno gli scenari a livello europeo e si creeranno le condizioni di agibilità del nostro mercato, quali la riduzione delle tasse e la modifica delle linee guida nazionali che il Governo si è impegnato a realizzare in tempi rapidissimi, in accordo con le Regioni. Una versione, quella del nostro assessore, che non convince Tedde. Oggi Deiana sostiene le imbarazzate tesi, secondo la quale la Puglia può sostenere il low cost, perché sulla stessa Regione non pende alcuna procedura di infrazione. Una presa in giro colossale, attacca Tedde. Deiana dovrebbe anche spiegare qual è la differenza. Posso che in Europa le regole sul sostegno ai voli low cost valgono per tutte le Regioni, per quelle soggette a infrazione, ma anche per le altre. Ma il territorio deve reagire in modo più energico, è il commento amaro di Tedde. Puglia e Deiana devono essere messi alle spalle al muro per capire che disastri stanno provocando. Oggi sonnecchiano e dimostrano di essere irresponsabilmente inconsapevoli, a meno che non siano attuando un disegno politico criminale, volto ad affossare il nord-oveste della Sardegna. Non c'è più tempo da perdere. La stagione estiva è ormai saltata. Apriamo una finestra sulla cronaca perché è ricoverato in gravi condizioni. Al Santissima Annunziata, il motociclista che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente avvenuto nella rotatoria che porta alla quattro corsie per Sassari. Lo scontro con un'auto, una Nissan, sulla quale viaggiava una famiglia di Alghero, è stato davvero violento. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ambulanza, carabinieri, vigili del fuoco e anche un elicottero. Il giovane Centauro, un 29enne residente a Dolmedo, è stato caricato sull'ambulanza e è portato immediatamente a Sassari. Starà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica dell'incidente. Diamo ora la linea alla regia per una prima pausa pubblicitaria. Ritorniamo in studio. Giornata di elezioni. Ieri molti comuni dell'isola, anche importanti come Cagliari ed Olbia. Nel capoluogo isolano si profila una riconferma per il sindaco uscente Massimo Zeda con quasi il 51% dei voti contro il 32% di Massida. Olbia invece si andrà al ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra, Carlo Careddu, che al primo turno ha raccolto il 34% delle preferenze, e il candidato di centro-destra, Setti Munizi, che si è fermato attorno al 28%. Al contrario di altre realtà italiane, una su tutte Roma, il Movimento 5 Stelle non ha sfondato, anche se a Olbia la candidata pentastellata ha sfiorato il 20%. Ieri si votava anche ad Olmedo, il nuovo sindaco, e Tony Faedda, che con la lista Olmedo domani ha raccolto il 47% dei consensi. Quasi 100 voti in più di Angela Simula, di Sume Zoru, che ha chiuso al 43%. Più staccato Gianfranco Muroni, che ha raccolto il 9,8% delle preferenze. La lista di Faedda ottiene dunque 8 consiglieri, 4 scranni del Consiglio, andranno invece ai candidati più votati della lista di Angela Simula. L'affluenza a Olmedo è stata del 66%. E ora parliamo del rinnovato funzionigramma dell'amministrazione comunale di Alghero. Una piccola rivoluzione, come viene definita in una nota di Sant'Anna, che vede 37 nuovi ordini di servizio in vigore dal 1 giugno di quest'anno, che si aggiungono alle mutate competenze dei dirigenti comunali. Un unico obiettivo, rendere il più possibile efficienti i servizi agli algheresi. Il segretario generale Luca Canessa guida il coordinamento e controllo del rinnovato quadro funzionale del Comune di Alghero, con annesso l'ufficio gara e contratti con funzioni di centrale unica di committenza. Sotto di lui sei settori strategici della pianta amministrativa e quattro gli uffici in staff. Pianificazione del territorio e sviluppo economico in capo al dottor Guido Calzia, che dirige anche la polizia locale. Sviluppo del territorio ad interim il dottor Luca Canessa. Sviluppo sostenibile con l'ingegner Giovanni Spanedda. Programmazione economica con il dottor Franco Satta. Qualità della vita, servizi sociali, eventi e tempo libero con il dottor Gian Salvo Mulas. Infanzia e giovani, dottoressa Francesca Caria, che coordina anche i servizi demografici. Il dottor Salvatore Masi ha confermato a capo della pianificazione strategica e sviluppo tecnologico con le funzioni dirigenziali sulla progettazione UE, marketing territoriale, predisposizione e attuazione dei programmi complessi integrati. L'ufficio comunicazione e di supporto diretto alle attività istituzionali rimane in capo alla segreteria generale. Organigramma che presto si completerà con l'inserimento del nuovo dirigente di area tecnica, a cui saranno affidati la qualità urbana e la programmazione delle opere pubbliche. Già pubblicate le graduatorie degli idonei al concorso recentemente espletato. E questo è il nuovo assetto amministrativo. Alla base della riorganizzazione funzionale del comune di Alghero, fanno sapere in una nota ufficiale di Sant'Anna, che in questi giorni ha avviato la seconda fase con un rinnovato quadro settoriale, una profonda revisione della microstruttura, un riassetto dirigenziale e un'implementazione degli strumenti di funzionamento dell'ente. Tutti i processi deliberati lo scorso marzo dalla giunta guidata da Mario Bruno, con l'impulso decisivo del segretario generale. 37 nuovi ordini di servizio in vigore dal 1 di giugno, che si aggiungono alle mutate competenze dei dirigenti comunali. Un unico obiettivo, rendere il più possibile efficienti i servizi ai cittadini, assecondandone l'esidente e intercettandone le richieste. Ma in questa direzione il potenziamento degli uffici per nellire le procedure, garantire la puntuale erogazione di prestazioni con professionalità, il massimo coordinamento tra il personale, l'efficacia ed economicità tra settori. Previsto un sistema di valutazione permanente, una pesatura della dirigenza rispetto agli obiettivi politico-amministrativi e un controllo di gestione finora assente. È in questo contesto che si inseriscono i nuovi sportelli polifunzionali a favore del cittadino, cui spetta il coordinamento, tra le altre cose, dei numerosi progetti di cittadinanza attiva avviati negli ultimi tempi in città. E ancora si potenzia l'ufficio tributico in funzioni di controllo, al fine anche di combattere l'alta evasione tributaria e migliorare la capacità di riscossione. Si rivede la mission della pubblica istruzione, rafforzando il ruolo strategico dei servizi demografici e accorpando la pianificazione urbanistica, l'edilizia privata e lo sviluppo economico. Critiche sulla riorganizzazione della macro e microstruttura arrivano dai due consiglieri del nuovo centro-destra, Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, che parlano di Mirabolante, secondo tentativo di far ripartire l'ingranaggio. Da due anni Mario Bruno scarica puntualmente le responsabilità della sua totale inadeguatezza amministrativa e politica sugli altri. Sono trascorsi 24 mesi di nulla assoluto e secondo il monarca di Alghero adesso le responsabilità sono da attribuirsi alla struttura e non invece, come ormai chiaro, alla propria incapacità. Così Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras commentano la delibera numero 167 del 27 maggio scorso. La seconda volta dicono che viene messo in atto lo stravolgimento dell'assetto degli uffici con lo spostamento schizofrenico di decine di dipendenti comunali che comportano un ulteriore rallentamento della macchina amministrativa perché fatta senza criterio. La questione, se non fosse così seria e non riguardasse validi professionisti, farebbe sganasciare dalle risate. Lascia basiti infatti che l'ammissione del fallimento arrivi proprio con due delibere di giunta, la numero 79 e 80 del 18 marzo 2016, con le quali di fatto, ricordano Salaris e Piras, la maggioranza ammette che la rivoluzione della macro e microstruttura partorita solo un anno fa è irrazionale, illogica e inefficiente. Dirigenti che scappano, l'ultimo in ordine di tempo pare essere il dottor Satta, altri che vengono sballottati da un settore all'altro senza una logica, funzionari e dipendenti di ogni livello, travasati da un ufficio all'altro, senza tenere conto delle loro competenze, ma solo ed esclusivamente per logiche dispotiche, se non dispettistiche. Il sindaco, scrivono i due consiglieri del nuovo centrodestra, dovrebbe invece capire che i dipendenti sono una risorsa e l'ossatura della macchina amministrativa. Sono persone con le quali bisogna rapportarsi in maniera costruttiva e propositiva, con l'intento di migliorare insieme nei settori che presentano criticità e non invece punirli solo perché non rispondono agli imperativi. Insomma, concludono Piras e Salaris, per parafrasare un'orme famosa pubblicità in onda su una televisione locale, il problema non è il barbecue la struttura, signor sindaco, il problema è lei, se ne faccia una ragione tolga definitivamente il disturbo, la città gliene sarà grata. Ci lasciamo ancora per la pubblicità. Sabato mattina il sindaco di Alghero Mario Bruno ha salutato il questore Pasquale Enrico che lascia la questura di Sassari e già dai prossimi giorni sarà a Salerno per un nuovo incarico. Sindaco e questore hanno intrattenuto un breve incontro nella sala della Biblioteca Comunale di Santa Chiara. Dagli Algheresi giunge un generoso ringraziamento per l'importante lavoro svolto in questi anni, frutto anche della piena collaborazione istituzionale. E dopo il liceo artistico, cerimonia di intitolazione questa mattina anche allo scientifico. Alle 9.30 la sala professori è stata intitolata Carlo De Martis, docente di lettere e vicario presso il liceo per oltre 20 anni, noto in città anche come autore di versi poetici in lingua algherese. L'obra culturale ha anche pubblicato una raccolta di sue poesie, Palanta, Maunabra di Ulivà. Alla cerimonia erano presenti i familiari, il dirigente scolastico Antonello Colledanchise, Il sindaco Mario Brun, l'assessore all'istruzione Gabriele Esposito, la cantante Franca Masu, che ha letto alcuni testi di Carlo De Martis. Franca Masu ha poi partecipato anche alla cerimonia di intitolazione dell'auditorium a Marisa Sannia, famosa cantante oltre che autrice sarda, raffinata e di elevato spessore culturale. Con lei anche Paolo Zicconi, che oltre che docente di musica, è anche apprezzato interprete di alcuni dei brani più famosi della canzone italiana d'autore. Entrambi hanno ricordato la figura della cantante, che ottenne tra l'altro nel 1968 un secondo posto al Festival di Sanremo. Questa mattina abbiamo intervistato il dirigente scolastico Antonello Colledanchise, che ha parlato della cerimonia di oggi, ma anche di quella già svolta all'artistico e quella in programma mercoledì al liceo classico. I licei cittadini hanno deciso di intitolare alcune aule, gli auditorium ad ex docendi oppure a due artiste sarde. Quest'oggi è stato il turno dello scientifico, nei giorni scorsi invece è stata l'intitolazione di alcune aule all'artistico e nei prossimi giorni al classico. Sì, stiamo in qualche maniera festeggiando il 55esimo dell'istituto d'arte diventato liceo artistico e lì abbiamo ovviamente voluto intitolare alcune aule, anche la presidenza, ad alcune persone che hanno lasciato il segno, hanno lasciato la storia, della storia, l'immagine di una persona che in qualche maniera ha inciso nella storia del liceo artistico. Quindi abbiamo intitolato alcuni spazi a Walter Veronese, che è stato anche preside, a Verdina Pensè, che è stata la fondatrice della scuola di Corallo, diventata poi istituto d'arte, e infine al preside e anche famoso cineasta Fiorenzo Serra. Mentre l'auditorium è stato intitolato da una grande artista sarda che è Maria Lai. Poi festeggiamo ancora dopodomani il 65esimo della nascita del liceo classico autonomo, che nel 1951 diventa autonomo da Sassari, mentre prima dipendeva da Sassari. Si facevano i primi due anni, quarta e quinta ginnasio a Delghiero, poi chi voleva continuare a studiare andava a Sassari a fare prima, seconda e terza liceo classico. Adesso, con i cinque anni di liceo classico, abbiamo già da 65 anni liceo a Delghiero. Il primo preside, 65 anni fa, che ebbe la nomina, fu appunto Domenico Macciotta, che rimase preside per 35 anni fino all'86. Quindi vogliamo ricordare anche lui, a lui intitoliamo la presidenza. Accodati a questo c'è ovviamente le intitolazioni di oggi, di stamattina, al professor Carlo De Martis, che ha inciso non solo dal punto di vista didattico, ma anche umano e poetico, non solo sulla scuola, ma sulla città di Elghiero. A lui abbiamo voluto dedicare la sala professori. E poi un'artista, in parte dimenticata, che noi invece vorremmo ricordare e che crediamo che meriti tanto ancora, molto più di quello che stiamo facendo noi, all'artista Marisa Sandia, intitoliamo l'Auditorium. Da una parte perché è una donna e le professoresse questo volevano, dall'altra perché è una grande artista che fin dal 68 è stata conosciutissima in tutta Italia e ha fatto conoscere, tramite le sue canzoni, la Sardegna in Italia e nel mondo. E come abbiamo detto, alla cerimonia di intitolazione dell'Auditorium hanno preso parte anche Paolo Zicconi e Franca Masu. Ascoltiamo dalle loro parole il ricordo di Marisa Sandia. Anche Paolo Zicconi ha voluto essere qui quest'oggi, in modo particolare per ricordare la figura di Marisa Sandia. Una grandissima cantante, un'artista di livello, una donna che si è saputa reinventare, partendo da un repertorio italiano e approdando a quello dei grandi poeti sardi e nell'ultima parte poi della sua produzione anche spagnoli. Molto bello il fatto di dedicare uno spazio a Marisa Sandia. Generalmente qui vengono ricordati giustamente Maria Carta e Andrea Parodi, ma non di meno, e sottolineo non di meno Marisa Sandia, che non ha certamente appunto meno meriti. Quindi credo che l'idea del liceo scientifico sia anche un atto dovuto in qualche modo. Ecco, speriamo che anche altre istituzioni sarde seguano questa idea. Perché se ricordiamo Andrea, che poi ho conosciuto anche di persona, anche bene, se ricordiamo Maria Carta, beh, in effetti mancava Marisa Sandia in questa, chiamiamola terna, di grandi esponenti della nostra cultura musicale. Sono molto onorata per questo invito e per questa occasione, perché è veramente uno di quegli incontri, di quelle occasioni dove ricordi una figura femminile, una donna sarda, una vera donna sarda, un'artista, un'artista che ha saputo percorrere una traiettoria tra le più svariate, ha fatto quella che possiamo dire la carriera della canzone della musica leggera, ha fatto teatro, ha fatto omaggi vari a tanti grandi cantautori, me ne viene in mente uno, Endrigo, e proprio quando io avevo deciso di cantare Canzone per te in Algherese mi ero rivolta a Marisa Sandia perché facesse un pochino da intermediaria verso Sergio Endrigo per chiedergli l'autorizzazione, lei fu meravigliosamente gentile. In quell'occasione l'ho conosciuta anche se per pochi minuti. Io ricordo orgogliosamente una donna molto fiera, molto fiera, molto elegante, molto innamorata di questa terra, questa terra che poi forse negli ultimi anni della sua carriera non le ha regalato un grandissimo spazio. I lavori di Marisa Sandia, gli ultimi, e quelli dove lei è veramente cantautrice trovo che abbiano un grande valore, ha cantato testi scritti appunto da lei stessa oppure di grandi poeti sardi, avvicinandosi, abbracciando volutamente il sardo ma anche in qualche testo l'algherese perché non posso dimenticare che ha cantato testo di Antonio Cano. E l'ultimo lavoro trovo che sia veramente prezioso è un omaggio a Garcia Lorca dove ci sono delle perle autentiche anche perché curati tutti gli arrangiamenti da Marco Pira, se non sbaglio, insomma uno dei Bertas, musica raffinata, voce e sua dente e un animo grande, un cuore molto grande, una donna che bisogna tenere veramente nel nostro cuore. E con le appassionate parole di Franca Amasu e il ricordo di Marisa Sandia ci lasciamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Lo sport, in quest'ultima parte del nostro telegiornale parliamo intanto di un altro grande risultato per la SD Valverde Scuola di Karate l'atleta nazionale Cecilia Gobbino è stata convocata per rappresentare l'Italia agli europei di Dublino. La soddisfazione più grande è che gareggerà sia nella specialità di combattimento, cioè il cumite, che nella specialità delle forme, il cata, dimostrando così quanto la federazione VUCA riponga fiducia in lei un atleta Cecilia Gobbino che è al vertice della classifica nazionale in piena forma, sia fisica che tecnica. La domenica 5 giugno a Nizia invece nel cuore della Costa Azzurra si è disputata la dodicesima edizione dell'Aeroman France 2016, una gara simbolo del triathlon che prevede una frazione di 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e per concludere una 42 km e oltre di corsa. Preparare un simile impegno richiede duri e costanti allenamenti nelle tre specialità, nonché una grande forza mentale per superare i momenti difficili a cui si va incontro in questo genere di competizioni. Fra i 2.885 triatleti alla partenza, data alle ore 6.30 del mattino per la prima delle tre prove, anche il runner dell'Atletica Ginnasium di Alghero, Guido Calzia, che ha concluso la pesante e affascinante prova in 12 ore, 47 minuti e 21 secondi, classificandosi 1661esimo assoluto e 150esimo della sua categoria. Questa era l'ultima notizia dell'edizione di oggi nel nostro telegiornale e vi lascio al meteo. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione su CatalanTV ritorna puntuale domani alle 13.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.